Amici di Telemolise, siamo a Torella del Sannio per la decima edizione del Memo Festival della lettura francesca, un memorial dedicato a Francesca Meffe, prematuramente scomparsa dieci anni fa. Legato a questo festival c'è un concorso di scrittura creativa rivolto ai ragazzi delle scuole medie. Quest'anno gli studenti si sono dovuti cimentare nell'elaborazione di un articolo di giornale. Il tema è quello del Covid, quindi il rientro a scuola dopo il Covid. Tante le cose che sono accadute durante questo evento e noi vi raccontiamo tutto nella prossima puntata di Viaggio in Molise. Siamo con Agnese Di Blasio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Baranello. Iniziamo col dire quale scuole racchiude questo istituto. L'Istituto di Baranello racchiude le scuole di Fossalto, Castropignano, Busso, Torella del Sannio e Baranello, la sede centrale. I ragazzi si sono cimentati in questo concorso. Un articolo di giornale quest'anno prevedeva il concorso. Quale approccio hanno avuto verso questa prova? È stato un approccio diverso dagli altri anni perché di solito il concorso prevedeva un tema di fantasia o una ricetta, è stata la tematica dell'anno scorso. Quest'anno la cronaca, il giornale, l'articolo ha messo i ragazzi di fronte alla realtà. Cioè la cosa importante è che loro hanno dovuto analizzare il vissuto, cioè l'esperienza di quest'anno, perché la tematica era il rientro a scuola ai tempi del Covid. Quindi non hanno potuto viaggiare con la fantasia ma hanno dovuto pensare a quello che hanno vissuto realmente. Quindi hanno scritto delle loro emozioni, delle loro paure, ansie, sia nel periodo del lockdown sia adesso al rientro. Si sono trovati di fronte a una scuola totalmente diversa perché hanno visto la necessità del distanziamento, dell'uso della mascherina, del rispettare le regole per andare in bagno, non potersi scambiare penne, matite, quaderni. Insomma abbiamo dovuto dare delle regole ferre, però sono veramente contenta perché i ragazzi a scuola le rispettano, stanno dando dimostrazione di maturità. Quello che piace un po' di meno è che fuori la scuola si sentono un tantino più liberi e quindi vediamo raggruppamenti e anche mascherine non indossate. Insomma, però a scuola no, hanno capito la serietà della situazione. Questo è un evento molto importante per gli studenti, in questo caso parliamo della scuola media, perché ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alla lettura e alla scrittura creativa. Allora, cimentarsi con il testo scritto è importante ma parte sempre dalla lettura. Cioè un ragazzo non può scrivere se non impara a leggere. Deve prima leggere tanto, nutrirsi, diciamo così, di quello che è la lettura di testi diversi per poi approcciare al testo scritto. E scrivere un articolo di giornale non è facile. Non è facile proprio perché bisogna essere realistici, rispondere alle classiche domande del chi, che cosa, quando, come e perché. Però i ragazzi, da quello che ho sentito anche qui stasera, sono stati bravi. Hanno rispettato queste regole e sono riusciti a raccontare con serietà e obiettività quello che stanno vivendo. È stato interessante il suo intervento oggi durante la premiazione. Si è detto che l'Istituto Comprensivo di Baranello non ha eliminato il libro di testo. Il libro di testo che è stato oggetto di molte polemiche, perché sappiamo che a scuola purtroppo non ci si può scambiare più nulla. Certo, è vero. È vero perché anche scambiarsi il libro di testo può diventare, diciamo, uno strumento di trasmissione del virus. Per cui, è vero, abbiamo sollecitato i ragazzi a non dimenticarlo. Il libro di testo di tutte le discipline devono portarlo e usarlo in maniera personale. È vero, ci dispiace il fatto di non poterli educare alla solidarietà, alla cooperazione, cosa che abbiamo sempre fatto negli altri anni. Però, diciamo, stiamo privilegiando quella che è la lettura collettiva, utilizzando le LIM, utilizzando i libri digitali. Quindi, quando c'è, diciamo, un ragazzo che ha dimenticato un libro di testo, allora usiamo il tablet, usiamo la LIM e quindi cerchiamo di venire incontro all'esigenza che c'è in quel momento. Però, purtroppo, scambiare e condividere il libro, che era una bella cosa, sa cominciare dal tocco delle pagine, purtroppo non lo possiamo fare quest'anno. Però la scuola, comunque, ha trovato il modo di risolvere il problema. Dobbiamo farlo. Ci stiamo anche dotando di una biblioteca digitale. Stiamo scaricando dei libri perché, insomma, dobbiamo dare l'opportunità di continuare con questa bellissima esperienza della lettura, che è vero, va fatta a scuola, va fatta in classe, può essere collettiva, ma non c'è nulla di più bello di quella che è poi la lettura personale, individuale, la lettura silenziosa, perché si va a nutrire l'anima della persona. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tema di questo decimo Memo Festival della lettura è quello del giornalismo. Noi siamo con Antonio Lanza qui per rappresentare l'ordine dei giornalisti del Molise. Ho raccolto con sincero interesse e particolare entusiasmo l'invito rivoltomi dal dottor Vincenzo Cimino, finalizzato a rappresentarlo in questa sede. Egli è infatti assente per impegni oggetto di pregressa pianificazione. Oggi un concorso che ha spronato i ragazzi a cimentarsi nell'elaborazione di un articolo di giornale. Parliamo di giornalismo, il giornalismo in Molise. Innanzitutto aprirei uno spaccato su quelle che possono essere le insidie del web, le insidie della rete. Anche se è doveroso precisare che nella nostra realtà locale operano con professionalità, efficienza, numerose testate online. Quindi non vanno assolutamente confuse. Ecco, questo direi ad una platea di ragazzi. Non vanno assolutamente confuse con quelle che possono essere le insidie che vengono soprattutto dai social. Mi permetterei anche di aggiungere qualcosa di storico. Ecco, le insidie, le fake non costituiscono una novità dei giorni nostri. Affondano le loro radici nella storia. Basti pensare per esempio a quello che è stato la grande truffa paleontologica di Piltdown. che praticamente nel 1912 fu addirittura costruito un fossile utilizzando pezzi di scimmia uniti a resti umani. Questa storia è andata avanti e è stata scoperta, pensate, dal 1912 è stata scoperta nel 1951. Quindi diciamo le fake non sono una novità dei giorni nostri. Io direi ai ragazzi di provare a ragionare all'incontrario. Se l'articolo, l'ha scritto uno del mestiere, ha rispettato o ha tentato di rispettare le 5 W che conosciamo bene e quindi tentare di individuarle in quell'evento, in quella notizia, in quel fatto. Lei ha parlato di giornalismo online proprio perché i giornali online oggi sono molto diffusi. I giornali online sono molto diffusi, hanno ritmi frenetici, hanno ritmi veloci, ma ciò non deve costituire per il giornalista un'esimente finalizzata a verificare le notizie. Il giornalista deve sempre verificare le notizie in quello che è un terreno insidiosissimo, quale può essere la rete. Perché il problema fondamentale poi alla fine è questo, c'è la corsa a chi dà prima la notizia e magari si approfondisce poco la notizia. Esatto, approfondire la corsa a chi lancia prima la notizia, però la notizia va verificata, va approfondita perché poi sappiamo benissimo che dal 1988 l'ordine ha cercato di, si è impegnato, l'ordine nazionale a dare delle regole, a dare delle regole di ontologia. L'ordine si è impegnato con carte che nel 2013 erano arrivate ad essere ben 15, quindi c'è stata la necessità di creare il testo unico dei doveri del giornalista. e ciò costituisce non solo un obbligo per il giornalista a rispettare quelle che sono norme e comportamenti legati alla professione, ma costituisce comunque una garanzia per terzi, per i terzi. Quando nel 2015 ci si è accorti che tutte queste carte andavano assemblate è nato il testo unico in vigore dal 3 febbraio 2016 e ciò è molto importante perché queste regole, è bene ricordarlo, valgono anche per chi scrive solo occasionalmente. Amici di Telemolise, il nostro viaggio a Torella del Sannio termina qui. Noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, vi diamo appuntamento al prossimo viaggio. Vi ricordiamo che potete seguirci al canale 11 di Telemolise, 96 in Abruzzo, 880 nel Lazio. Potete rivedere tutte le nostre puntate collegandovi al sito internet www.telemolise.com www.telemolise.com